Non solo verdure surgelate ma anche passate di pomodoro o bevande a base di frutta. Sono solo alcuni dei prodotti di frutta già l'azienda delle Piane di Larino che tra i dipendenti fissi e stagionali impiega circa 140 persone. Nella sala convegni del Melograno ha presentato il bilancio sociale una sorta di certificazione etica con cui l'impresa si presenta al territorio per illustrare quello che ha fatto e quello che intende fare in termini di investimenti e di risorse. Intanto nonostante il difficile momento economico l'azienda chiude l'anno con un aumento del fatturato di 7 punti percentuali per un totale di 133 milioni di euro. Fruttagel ha avuto risultati migliori rispetto allo scorso anno. Stiamo facendo il consultivo del terzo trimestre. L'azienda è cresciuta, è cresciuta di fatturato, è cresciuta di più di 7 punti in un anno dove credo poche aziende possono evidenziare dei risultati così importanti e in particolare l'azienda è riuscita a raggiungere dopo molti anni l'equilibrio della gestione caratteristica e quindi ipotizziamo entro la fine dell'anno di riuscire a conseguire un pareggio di bilancio e quindi un bilancio in equilibrio che ci fa vedere il 2013 con grande ottimismo. Per il prossimo anno c'è già in conto di investire in nuovi segmenti di mercato in modo da recuperare i margini di perdita che derivano dalla riduzione delle vendite a causa della crisi dei consumi. Intanto lo stabilimento di Larino dove si producono unicamente surgelati è una realtà consolidata. Gli sforzi fatti negli ultimi tre anni da questo management hanno dato dei risultati veramente molto apprezzabili e quest'anno siamo qui a testimoniarlo con la seconda occasione in cui presentiamo il nostro bilancio sociale che nella nostra realtà locale magari rappresenta ancora per certi aspetti una novità però è un importante strumento, a me piace vederlo un po' come una lettura di se stessi della propria azienda, non con i numeri come si fa con un conto economico ma appunto guardando ai contenuti, guardando alle persone, quindi ai capitali intangibili alle relazioni con il territorio.